Vada e ziki! Tutto pronto per la festa? Sì! Andiamo! Siamo pronti! Vada e ziki! Ti faremo una t-shirt personalizzata! Scegli il colore che preferisci. Scegli il colore che preferisci. Ok! È creativo! Forte! Ecco qui! Uh! 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 Tres! Uh! Forte! Uh! Facciamo dieci giri sulla destra. Tre, due, uno. Andiamo! Arriba, sì! Sì, woo! Andiamo! Che bello! Qui non c'è nulla, tanto cielo che magia! Wow! Forte! Wow! Tutto pronto? Sì! Forza, solta, solta! È troppo alto! Sì! Chi sta con me? Chi sta con me, con me? Andiamo! Noi siamo il meglio! Forza! Forza, sì! Sì! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! One, two, three, let's go! Forza! Wow! 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 Buon compleanno, Chris! Siamo pronti! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Cristian! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Cristian! Tanti auguri a te! Congratulazioni! Tanti auguri, Christian! Tanti auguri! Buon compleanno, Nicky! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te, Nicky! Tanti auguri a te! Sei pronto? Ciao, ragazzi! Buon compleanno! Buon compleanno! Uno, due, tre! È il mio compleanno! Ciao! 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 Come state? Andiamo, ragazzi! Fantastico! È ora di divertirti! Sico! Ci siamo! Fico! E via! Sei pronto? Oh, sì! Andiamo! E via! E via! E via! Andiamo! fantastico batti cinque e tu? e tu? forza 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 andiamo oh, cosa ho qui? lo sapevo wow, ok oh mio dio un'altra voilà va bene, ora Vladislav ingoia la pallina ingoia la pallina ok, piccola vedete andare uh, andare la vedete andare dentro oh, sì, va bene ok, grazie mille Casper, il fantasma wow, sì è vivo diciamo stop stop, stop no, no la mia mano in cima la mia mano in cima uno, due, tre sì sì wow ci siamo ho scelto il blu e verde perché mi piacciono due, uno, due, tre andiamo sì niki niki, fate un applauso per niki questa è una scatola vuota è vero? è vuota? abracadabra ottimo che? un fazzoletto magico e vai niko è un bastone magico abracadabra bello niki wow un nastro magico a strisce uh, sì wow tada sì, bene niki wow due, tre forza uno, due, tre buon copriano sì uuuh 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 urrà tanti auguri a te da papà da papà apriamolo cosa c'è? la mia nintendo niki una console nintendo uuuh uuuh anche da amazon uuuh 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 uuuuh uuuh 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 da 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 uuuh 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 carriot uuuh uuuh Tanti auguri ai, tanti auguri, tanti auguri a te! Buon compleanno! Tanti auguri! Tutti in teore! Tanti auguri, tanti auguri!